Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Grazie per la visione! Chi è Gianluca Petrella? Gianluca Petrella è un normalissimo musicista come tanti altri, che vive attraverso la musica, che basa le sue giornate e la propria vita sulla musica. La musica per Gianluca Petrella non è solo un genere, ma la musica abbraccia tanti generi, tanti luoghi del mondo. Sono un grande appassionato anche della musica etnica, proveniente da qualsiasi parte della terra. Non sono uno fermo o accomodato sul jazz da cui provengo, ecco questo è importante specificarlo, però diciamo che vive di pane e musica. Quando nasce l'idea di usare lo strumento del trombone, perché chiaramente tu sei un trombotista, tra tanti strumenti di ottoni, come mai hai scelto questo strumento che è comunque abbastanza voluminoso esteticamente? Sì, è nato tutto per caso, c'è da dire che sono cresciuto in una famiglia di musicisti, per cui il mio papà, ecco, lui è tuttora un trombonista, perché lo suona ancora, e ha voluto sin da tenera età, come dire, appiopparmi questo sacco pesante, voluminoso, come l'hai chiamato tu, già dalla tenera età. Per cui ho dieci anni, ho iniziato a suonare il trombone a dieci anni, diciamo che da quel momento lì in poi non mi sono mai più fermato. Però oltre a quello, oltre al trombone, ho avuto anche la fortuna, sempre tramite il mio papà, di poter approfondire altri discorsi su altri strumenti, come i sintetizzatori, come le primissime tastiere, mi ricordo quando ero bambino, le prime tastiere midi, così per iniziare a divertirsi con suoni diversi o suoni sintetici, che tuttora uso anche nella mia musica, perché la mia musica, poi magari ne parleremo dopo, la mia musica è un misto di suoni acustici e suoni provenienti da apparecchiature elettroniche. Ritornando al discorso di prima, la scelta è stata prevalentemente fatta sulla base degli strumenti che c'erano a casa, ecco, quindi c'era da scegliere qualche strumento in particolare, ho scelto il trombone. Appunto, parliamo della tua musica, perché la musica è viva, in quel caso quando suoni dal vivo in realtà poi gli dai una vita diversa, perché la parte con una canzone ben stabilita, ma poi in realtà durante il concerto si evolve in base anche al pubblico che hai, alle sensazioni che provi. Certo, certo, certamente, è così come hai detto tu. Quando saliamo sul palco, insomma, l'unica cosa che sappiamo bene è quello che dobbiamo suonare, ecco, è quello che è il nostro repertorio, è quello che è la nostra musica, dopodiché iniziano, come dire, già da subito, già dalle prime note, e inizia il rapporto col pubblico. Il rapporto col pubblico ovviamente è fatto da un filo conduttore che unisce la musica a loro, alle loro reazioni, e questo ovviamente non è semplice percepirlo dal palco, perché ovviamente non parli con il pubblico, parli attraverso il tuo strumento. Pian piano inizia a capire le reazioni che può avere il pubblico in quella determinata serata, e questo penso che non solo per me, ma per chiunque, per qualsiasi musicista sia un fattore importante e rilevante, sia a livello emotivo che a livello professionale. Che sensazioni proprio quando vedi le persone a fine concerto che ti incontrano e hanno quelle facce, come dire, dalle facce, che sensazioni proprio quando te li vedi che ti sorridono, che ti abbracciano, che comunque ti salutano, e esprimono la loro gioia nei tuoi confronti? Beh, quello vuole dire obiettivo raggiunto, riattaccandomi al discorso di prima, della comunicazione tra musicista e pubblico, ecco, dopodiché i risultati li riconosci anche in questo, cioè nella voglia da parte del pubblico stesso di avere un approccio con te, di scambiare due parole, di farti delle domande anche in base allo strumento che suoni, strumento che molto spesso, insomma, non viene riconosciuto dalla massa come altri strumenti, che possono essere la tromba, il sax, il trombone è uno strumento un po' più particolare, ha bisogno tuttora di essere, come dire, spiegato a chi non lo conosce ancora, giustamente. La domanda più strana, o comunque la domanda che ti è rimasta più particolare che ti hanno fatto le persone che ti hanno ascoltato, c'è una in particolare per caso? Sì, io mi ricordo di una coppia di ragazzi molto simpatici e molto contenti, proprio a fine concerto, ecco, loro si avvicinarono entrambi facendomi i complimenti, elogiando la performance dei musicisti che erano con me, abbiamo scambiato chiacchiere così in maniera molto leggera, e alla fine loro sono andati via, però c'era ancora un qualcosa, perché notavo che uno dei due si girava e continuava a guardare, continuava a guardare, è come se avesse ancora un'ultima domanda importante da chiedermi dentro di sé. Ecco, questo ragazzo qui ha fatto retromarci, è venuto da me e mi ha fatto una domanda fantastica, alla quale io ho dato risposta e ho accettato anche in maniera simpatica. La domanda è stata, scusami, come si chiama lo strumento che suoni? Bellissimo. Questa, insomma, un po' la dice lunga sullo strumento, così come conoscenza di massa, ecco, però da un altro punto di vista, scusa il gioco di parole, questa domanda non mi lascia assolutamente, come dire, scoraggiato, perché comunque le sensazioni che hanno avuto questi due ragazzi durante il concerto sono state solo ed esclusivamente belle sensazioni, che sono state, come dire, divulgate attraverso questo strumento di cui neanche loro conoscevano il nome. Però si sono innamorati. E a questo punto, il 13 novembre, sarai nelle Marche a Macerata. Sì, sì, sì. E quindi, a questo punto, come, cosa, come, non so, a questo punto ci sarà un momento divertente, bello, fantastico, emozionante, sarà un po', anche perché poi la tua musica, abbiamo detto, la tua musica è un po' un mondo tuo, quindi che tu vivi e tu racconti a noi. Sì, guarda, per esperienza posso dirti che tutta la serie di concerti che abbiamo fatto in questi ultimi due anni con la Cosmic Renaissance, per esperienze passate in questi due anni posso dirti che i concerti sono filati lisci, hanno comunicato tante emozioni al pubblico, ci siamo trovati davanti delle cornici di pubblico fantastiche, quest'estate c'era il connubio aria aperta e musica, come tutte le estati, per cui si visitavano anche luoghi molto belli, città molto belli, paesi molto belli. Ecco, in tutto ciò, in tutta questa condizione, in tutta questa dimensione, diciamo che le emozioni ci sono sempre state durante e dopo il concerto. Credo e spero ovviamente, vivamente, che tutto ciò succeda anche a Macerata e ne sono convinto al 100%, ecco, perché oramai la band è una band affiatata, la band è una band che suona dal 2007, noi ci conosciamo dal 2007, per cui conosciamo bene i nostri meccanismi, le nostre strutture, i nostri strumenti, i nostri suoni, quindi ogni concerto fila liscio, in maniera, come dire, sincera da parte nostra. E questo è il nostro obiettivo. Come si chiama la band? Gosmic Rennesco. Non lo sapevamo, ma lo sapevamo, ma lo vorremmo sentirlo da te. È come un po', scusami, ti ho detto. È come un po', come si chiama lo strumento che suoni, sai, con l'intervista, quella legata alla storia di prima. Guarda, io ti faccio l'ultima domanda perché sicuramente hai da fare. Se potessi salire su un palco o salire su un palco con un accanto o accanto tanti altri strumentisti, quale palco ti piacerebbe risalire che ti ha dato così tante emozioni o pensi che ti possa dare tante emozioni? Ma i palchi che mi hanno dato emozioni praticamente sono quasi tutti, ecco. Posso citartene qualcuno in particolare, magari qualche palco del mio passato, negli anni di piena attività con Enrico Rava, ecco, in cui ho girato praticamente tutto il mondo, con Enrico e con altre band, anche per i fatti miei e con tante altre situazioni. Non so, forse ti posso citare i miei primi palchi veri come quelli di Montreal, per esempio, del Festival di Montreal, che è una cornice stupenda per un festival di jazz dove ci sono per strada, almeno c'erano, adesso non so in questo periodo come se la passano, però per strada bastava passeggiare e ogni 100 metri, 150 metri c'era un palco con un gruppo che suonava, ecco, in uno di quei palchi siamo saliti anche noi. Quelle sono state le mie primissime vere emozioni, ecco, ti parlo dei primi anni 90, 93, 94, quel periodo lì, adesso 95, anche quando iniziavo a muovere i primi passi sui palchi quelli veri. Non c'è un concerto, un palco specifico che abbia... Certo, ci sono quelli più belli, ci sono i festival più acclamati nel mondo rispetto ad altri, insomma, dove la situazione è un po' diversa e l'emozione è un po' diversa, ma per me qualsiasi palco può essere il luogo giusto dove emozionarsi e fare emozionare, non c'è bisogno, ecco, di citare i grandi festival sparsi per la terra, voglio dire, anche un piccolo club accanto a casa mia può essere un palco giusto dove emozionarsi. C'è l'ultima cosa, c'è un artista che suona il tuo strumento che tu hai ammirato, comunque che ammiri perché ti ha dato quell'emozione in più, quella sensazione in più? Sì, io ho ammirato e per me è stato un punto di riferimento, un trombonista che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, lui si chiamava Ruswell Rudd, ed era un musicista di New York che io ho sempre apprezzato, proprio perché era il contrario di quello che insomma si voleva ottenere sul trombone, e cioè un suono, una tecnica più sviluppata a discapito del suono, e cioè andare molto veloci, che è un po' il fattore predominante dei trombonisti, cioè andare molto veloci tecnicamente con lo strumento, che è una cosa difficilissima, il trombone tecnicamente è uno degli strumenti più difficili da imparare e da adoperare, quindi tecnicamente andare veloce a discapito del suono. ecco, Ruswell Rudd era esattamente l'opposto, e cioè suono bello e vero, il suono vero del trombone, il suono che ti avvolgeva, a discapito di qualche nota in meno, e come dicevamo tanti grandi maestri, tra qui Thelonious Monk e Miles Davis, le note che non suoni sono più importanti delle note che suoni, questo era un po' il concetto suo, quindi una nota, ma una nota che può valere 100 note di un altro trombonista, che va a 200 all'ora con il proprio strumento. Benissimo, allora noi ci diamo appuntamento il 13 novembre a Macerata, invitiamo tutti a venire perché è sicuramente un momento bello ed emozionante sarà. Ciao, sono Gianluca Petrella, vi faccio un saluto a voi e allo Studio 7 di Macerata, ci vediamo presto. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. e poi ci vediamo presto. e poi ci vediamo presto.